E' addirittura e che è il canne, è il canne per aprire bene e da via A questo fine di mezzo vi ricordo? O' il 16, l'orario del... ... 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 Sì, siamo! Inesco la testa! Quattro a dire! E adesso! Asciamo! Un'epoca in guerra! Un'epoca in guerra! Un'epoca in protezione! Ok, Roma! Un'epoca in una seconda di domanda! Non è un'epoca! Non è risposta! Capita il tubo di coltanto! Capito! 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 E adesso ci – - Grazie a tutti 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 Grazie a tutti